amore dimmi non ho più voglia di leggere io di giocare col telefono ci guardiamo un film cosa vuoi vedere stupiscimi allora che film le faccio vedere vediamo un po' ci sono fantasia ok ci sono diceva fantasia eccolo qua trovate quelli li raccolgo dopo ci siamo pronti go stupiscimi basta andare qui vai sul menu ricerca fantasia e buon film ma no sul serio mi è bastato telefonare a uno dei negozi 2.0 di sound station tre mesi di prova gratuita di disney plus che spettacolo grazie